Musica Ah hi people of youtube Welcome back to a new episode of Saintro Due a parte gli scherzi Benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata In cui siamo tornati in prigione Non per meriti nostri Ma per liberare Una signora che ci deve aiutare E scoprire cosa c'è nella droga dei sonsos a Medi Assalto aereo Ciao Sentiamo Oh immagino Grazie tesoro Sentiamo perché Sì Sei un idiota Ma poverina Mi sembra un'ottima idea Ti sembra che sto scherzando Porca troia Grazie Tobia Eh lo so Eh lo so Porta da fare un viaggio Un cd di Aisha Un etto d'erba Ma perché no Giustamente Chiedi alla persona Sbagliata Siamo arrivati Fai fuori le macchine agricole E la madonna Quanta vita hanno Se riuscissi a prenderle Sarebbe Già un risultato Il problema È che tu continui a muoverti Tobia Quindi Non è per un cazzo facile Soprattutto contando che ogni tanto Smette di sparare a caso Quindi Oh Non l'avevo visto Quel furgone Oh Tobia Però Non ti fermare Ecco fatto Ecco qua Addio anche a questo Addio Al furgone Se ci riusciamo Perfetto Manca Solo l'ultimo Porca troia Tobia Però eh Tobia Devi Devi farmi mirare A quello giusto Però eh Va bene tutto Ah Eccoti là Merda Non riesco a prenderlo Tobia Ecco fatto Ah ma la visual Oh certo Ecco perché la visual È sminchiata Siamo sopra il fumo Dell'erba Giustamente Non riesco Me ne manca Solo uno Ma non riesco A vederlo Oh Finalmente Tobia È il momento È il momento È il momento di levarci Di torno Il più in fretta Possibile Tra l'altro Se possibile È il momento di Ehm Li elimino io Quanto ci vuole A farla Displodere Quella macchina Però E una è andata Due andate Due andate Se solo Se solo avessimo Un mirino migliore Se solo riuscissi a mirare meglio Tobia Eh dai però Si ferma Cazzo di cane Tobia però Dai Santo Dio Eh vabbè Lui si ferma Io non posso sparare Per qualche motivo Questo è esploso Ora Va bene così Va bene così Bravo Tobia No credo proprio di no Una bella sfiga Minchia Ah non l'ho idea Dimmelo tu I don't know What Stop lying Dude I said I don't And he said Stop Lying I don't know How they found out Then You are not Very useful Are you I don't know How they found out But I got some ideas Enlighten me I used to take this bitch Shondi And there's a chance I mean a small fucking chance That I might have gotten stoned And told her about the farm Where is this Shondi Ah bella domanda Ti prego fammelo uccidere Veteran child You will go kill this Shondi If you fail to do this Mr. Sunshine Will burn you alive Duh Molto eco Excellent Let's be on our way Cazzo Che paura Assalto è Aereo Completato 2000 Quartiere guadagnato Ottimo 500 dollari al giorno Elicottero del notiziario Ma perché no Sbloccato anche Tobia Benissimo Sbloccata anche la moglie No L'aiuto della gang personalizzato Bene E altre missioni disponibili Quindi signori Vi ringrazio a tutti per avermi seguito Come al solito se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti